Però sono tornati loro, il mitico flipperino Degos Buster, e sono un campione devo dire, esattamente. Ancora un po' vuota, però più o meno, più o meno, c'è il mio tavolino questo, dentro questo tavolino c'è una banana. Fedez mostra ai fan la sua nuova reggia nel cuore di Milano. Poi l'annuncio, parto da solo coi bimbi per Miami. Anno nuovo, vita nuova. Fedez e Chiara Ferragni non stanno più insieme, ufficialmente dalla seconda metà di febbraio, nei fatti forse già da qualche tempo prima. Quel che è certo è che a far le valigie e lasciare la casa fresca di ristrutturazione in cui i due vivevano insieme agli adorati figli, Leone e Vittoria, è stato il rapper milanese. Destinazione? Sulle prime un appartamento preso in affitto su Airbnb, Fedez stesso lo ha mostrato ai follower solo la scorsa settimana. Soluzione solo transitoria. Perché il rapper ha fatto proprio nelle scorse ore ingresso nella sua nuova reggia da padre separato. Un appartamento da ben 400 metri quadrati affacciato su piazza Castello, nel cuore di Milano, aveva raccontato al settimanale Oggi, completo ovviamente anche di camerette ed ogni comfort per i figli. Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita, Leo e Vittoria, aveva detto Fedez. Che nella serata di Pasquetta ha mostrato ai suoi seguaci le prime immagini dell'appartamento. Beh, ancora un po' vuota però più o meno, commenta Fedez azzardando un low profile mentre inquadra gli ampi saloni della nuova casa. L'arredamento in effetti è ancora in fase di start-up, un grande divano, una lampada, un tavolino in vetro. Gli spazi da riempire sono ancora parecchi, ma è chiaro che Fedez ha già messo al loro posto i suoi mobili e oggetti presi dalla casa condivisa con Chiara Ferragni. Tra quelli cui ha già riservato un posto speciale, i suoi flipper per i momenti di evasione. L'ultimo scatto per i, e le, fan, Fedez lo regala dal bagno nuovo di Zecca. Tatuaggi e addominali scolpiti a parte, per dare un altro annuncio, si appresta a partire per Miami con i suoi due figli. Che al ritorno avranno una seconda casa pronta ad accoglierli. Fedez è tornato a Milano dopo una breve vacanza in montagna in Valle d'Aosta, il rapper ha trascorso la prima Pasqua da solo, in compagnia degli amici, dopo la separazione da Chiara Ferragni che, invece, era a Dubai con Leone e Vittoria. Nelle sue ultime storie Instagram, dopo avere mostrato alcuni pezzi nuovi dell'arredamento della sua nuova casa, il rapper ha annunciato ai suoi follower che sta per partire per una vacanza insieme ai suoi bambini. Ecco dove andranno. Fedez non vede l'ora di rivedere Leone e Vittoria che hanno trascorso la Pasqua con la mamma. Nelle sue ultime storie Instagram, il cantante ha postato un selfie che si è scattato nel bagno della nuova casa e, alla foto, ha aggiunto, da Milano a Miami.